Non vogliamo dividere il Paese, non lo vogliamo unire su un'idea diversa e penso che in questo sito sia determinato il nostro diverso modo di pensare rispetto ai nostri competitor. Dopodiché chiaramente noi facciamo appello ai cittadini, facciamo appello agli operatori del mondo della formazione, al tessuto sociale perché chiaramente sono loro i nostri interlocutori privilegiati perché riteniamo che la scuola oggi viene messa in mezzo su dinamiche distorte di chi l'ha tirata una volta dall'altra. Per noi la scuola deve essere al centro di un progetto politico che deve portare il Paese oltre questo degrado. Quindi non ci convincono le altre coalizioni anche se non nascondo saremmo pronti anche a interloquire, non c'è un tabù sulle persone c'è un tabù sulle cose che hanno fatto. Prima di venire a parlare con noi devono disbrigare la matassa degli imbrogli che hanno fatto sui lavori pubblici, sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione del porte. Non è un caso che questi attori sono dall'una e dall'altra parte. Lo dicevo da anni che sono due facce della stessa sporca medaglia. Non è un caso che il Paese in queste condizioni lo sfida i cittadini a ricordare se nelle epoche in cui prima io e Luciano Castaldi e poi io e Mimisario facevamo opposizione e segnamenti, non per accattivare le simpatie di qualcuno che va a darci qualcosa o qualche clientela occupazionale, se il Paese era in questo stato. Dal confronto fra opposizione e maggioranza nascono le soluzioni positive per il Paese.